Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, dunque Juventus primavera che batte Young Boys 2-1, vola 6 punti in classifica, insomma, molto importante la vittoria sugli svizzeri, perché in casa, perché era una squadra da battere, perché se si vuole puntare alla qualificazione si doveva vincere questa partita, visto che col Manchester per la primavera sarà molto complicato, in quanto il calcio inglese è anni luce avanti a quello italiano a livello giovanile, anche se comunque andremo, credo, a Manchester a provarci. Detto questo, la partita si risolve dopo pochi minuti col gol di Serrao, molto abile di testa dal calcio d'angolo. Nel secondo tempo ci ha pensato Pablo Moreno a portarsi sul 2-0, primo gol per il talento catalano in maglia bianconera, ed è importante il fatto che si sia sbloccato questo ragazzo. Verso la fine del secondo tempo, intorno all'ottantanovesimo, è arrivato il gol, l'autorete di Anzolin su cross del giocatore svizzero, che ha portato il risultato sul 2-1, che alla fine è stato il risultato finale. Vanni sono stati in minuto di recupero, la Juve ha comandato tranquillamente il possesso palla, senza alcun tipo di problema. Dunque, Juventus che batte Young Boys 2-1, vola più 6 in attesa della partita col Manchester. Per la Youth League oggi è tutto, anche perché non posso fare un video più preciso, in quanto purtroppo la partita non si è potuta vedere, ma solo seguire con una diretta testuale. E dunque, a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento col prossimo video. Ciao!